Dopo l'apertura della stagione 2015-2016 con la Supercoppa Italiana che ha visto il successo della Juventus contro la Lazio per 2-0, sabato inizia il campionato di calcio di Serie A, con una stagione che si presenta entusiasmante in vista anche degli europei e poi anche delle Olimpiadi il prossimo anno. Negli altri CV che inizieranno come di consueto sabato 23 agosto, l'apertura aspetterà alle Romane, si parte con la gara delle Vente Godi alle 18 con la Roma di Rudi Garcia che affronta il Verona dell'intramontabile Lucatoni che la scorsa stagione, lo ricordiamo, ha vinto la classifica dei campocannonieri. La Lazio invece cerca il riscato alle 20.45 all'Olimpico contro il Bologna che dopo essersi salvato miracolosamente nelle ultime giornate di campionato punta a fare un torneo tranquillo.